Ancora premi per l'Unitas Sciacca. La Società Neroverde è stata premiata ieri ad Agrigento dal Comitato Regionale della Lega Nazionale di Lettanti, nell'ambito di una manifestazione che si è tenuta presso il Teatro Pirandello. Ad essere premiate sono state tutte le società agrigentine che hanno vinto campionati, tornei giovanili e tornei provinciali. Hanno ritirato il premio il presidente Pasquale Bentivegna, l'ex presidente Gioacchino Settecasi e il dirigente addetto al settore giovanile Neroverde Gianni Sant'Angelo. Hanno presenziato all'iniziativa il presidente del Comitato Regionale LND, Sandro Morgana, il presidente onorario Santino Lopresti, il coordinatore regionale del settore giovanile e scolastico Franco Valenti e tutti i componenti della delegazione di Agrigento. Unitas e Sciacca che, intanto, in vista del prossimo campionato di eccellenza, continua a muoversi sul mercato. Gioacchino Niosi è infatti l'ultimo colpo di mercato dell'Unitas. Attaccante di 22 anni, dopo i primi anni di attività giovanile nel Messina, è stato per 4 anni a Terni in Serie C e B, indossando le maglie delle rappresentative Under-17 e Under-19 della storica società Umbra. Lo scorso anno ha giocato a Gozzano nel campionato di Serie D piemontese. Niosi è una punta centrale, ma si adatta anche come esterno. Grandi qualità tecniche ha scelto Sciacca per rilanciarsi tra i professionisti ed è molto determinato nel puntare ad un campionato da protagonista. Negli ultimi giorni, infine, è stato tesserato anche all'esterno destro Filippo Di Leo, che va a rinforzare l'organico a disposizione del tecnico Lillo Bonfatto. Di Leo, che ha svolto l'attività giovanile con il Riesi, arriva dal Delia, dove ha giocato l'intero campionato di promozione da titolare, impressionando per maturità e qualità tecniche.